Ciao, sono Roberto Formignani, suono blues dagli anni Ottanta. La formazione iniziale si chiamava Manage Blues Band, poi diventata The Bluesman. Abbiamo partecipato a un sacco di festival importanti. Ho accolto questa richiesta di Italian Blues Union nel Ministero dei Beni Culturali. È stata una esperienza molto bella. Ho cercato di trasmettere una speranza importante per affrontare la vita. Ho chiamato l'amico Gianandrea Pasquinelli a registrare l'armonico. Ho aggiunto poi la batteria di Roberto Poltronieri. Sono Gianandrea Pasquinelli, armonicista. Per me è stato veramente un grande piacere di poter collaborare con Roberto in maniera così stretta su questo suo nuovo lavoro.